Silvia provvede scatenata 5 giorni dal parto cesareo, già si diverte su TikTok con la sorella Giulia, la cantante 27enne, tornata a casa con la sua piccola Nicole e non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo lato frizzantino. Le sue performance di ballo però sono così energiche che qualche fan si preoccupa o mette addirittura in dubbio il cesareo, ma Silvia rassicura tutti. Comunque ragazzi confermo il cesareo, ho fatto il cesareo, ma state tranquille, comunque mi sto riguardando, è che mi sono fatta un attimo prendere così colpa della socia qua che mi gasa di prima mattina con questi stacchetti esaltanti. No ragazzi comunque devo ammettere che comunque si mega energica, cioè è veramente... Vabbè la mia natura ragazzi ormai la conoscete, sapete che è così, per essermi presa la piastra mi sono fatta i capelli in ospedale, mi sono truccata, mi sono fatta la doccia subito, è un mio modo anche un po' di essere così da sempre, vero? Sì, quindi non posso andare troppo contro, è il mio spirito, però tranquilli, sto molto calma e tutto va alla grande. Grazie. 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 Grazie.